Il frate Cappuccino, Emiliano Antenucci, nel testo che ho citato e che ci sta guidando in questi giorni, cioè felici perché amati, la gioia dei figli di Dio, in questo testo dice che nella parola ringraziare noi troviamo anche un altro significato, cioè il ritornare in grazia, è in grazia di Dio, e non ha torto fra Emiliano, perché ringraziare vuol dire appunto anche tornare in grazia. Cos'è un cuore che è capace di amare? Un cuore che non è malato di sclerocardia, un cuore da cui nascono sorrisi autentici, veri, sorrisi che ti illuminano la vita, che ti illuminano chi sta intorno e che ti profumano l'ambiente di amore. Cosa è un cuore così, se non un cuore pieno, posseduto dalla grazia di Dio? Ogni qualvolta io dico grazie, la grazia di Dio torna in me. Un esempio che mi viene in questo momento. Quando noi viviamo il sacramento della riconciliazione, ci andiamo a confessare, in genere iniziamo subito con l'accusa dei peccati. Beh, io consiglierei di iniziare subito con il ringraziamento per tutti i doni, tra cui il perdono che Dio da sempre ci dona. Poi accusare le nostre infedeltà e poi ringraziare comunque Dio per i piccoli passi che ci ha fatto fare dall'ultima confessione e ringraziarlo per il perdono che ancora una volta ci donerà. Bene, noi in quel momento, dopo aver detto Signore ti ringrazio per tutti i doni e perdona le mie infedeltà, noi riceviamo e torniamo alla grazia. E questo tornare alla grazia ci fa tornare alle origini, alla fonte. E questa fonte è Cristo, che è la fonte dell'amore. E quando io torno alla fonte, quando io torno alle origini, il mio cuore esulta. perché lì risento, ritocco, rivivo ciò che sono e ciò per cui io sono stato messo al mondo. Sono un dono di Dio e sono questo dono per chi io diventi dono per gli altri, per chi io diventi testimonianza di gratitudine per gli altri. Cioè, la nostra preghiera, la nostra lode a Dio deve non solo procurare in noi la gratitudine, ma creare, stimolare, far emergere, semmai cuori chiusi, indolenziti, pigri, dovrebbe far emergere in questi cuori la gratitudine, il dire grazie a Dio. che bella missione abbiamo, che bella responsabilità abbiamo. Quella di aiutare gli altri attraverso la nostra vita, fatta di positività e di negatività, di pregi e difetti, di peccati e di doni. Bene, attraverso queste nostre vite, questa nostra esistenza, noi dobbiamo diventare il canale che porta alla fonte della gratitudine che è il Signore e che è gratitudine per ogni uomo, anche per quelli che noi pensiamo o definiamo ingrati. Vi aspetto domani, Padri Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!